Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial Ragazzi in questo nuovo video vi spiego come fare 2 milioni di rune più 400 mila rune Grazie a questo nuovo glitch Siamo al masole della dinanzia Mawwin Quindi senza neanche uccidere Mawg Non dovete ammazzare Mawg Se no non vi darà 2 milioni di rune Più la runa maggiore Quindi in questo caso proseguite da questa parte Scendete fino all'aggiù Non fatevi male se no dovete ricominciare da capo Questo nuovo glitch non è che l'ho scoperto Io ci sono veramente migliaia di giocatori Che l'hanno appena fatto pochi giorni fa O settimane fa anche mesi fa Dopo la nuova patch Che hanno appena rilasciato Non so quanto tempo è passato Io ho ripreso a fare i tutorial su Elden Ring Quindi da qui dovete prendere la capretta E saltarla sopra E misteriosamente la capretta scompare Eccola qua Io vi consiglierei veramente di iscrivervi al canale Per non perdervi altri tutorial come questi Ci ho fatto una guida su come ottenere altre rune Da un'altra parte Quindi è lo stesso metodo come questo E questa volta ci troviamo Nel passaggio verso il Sakura Albero Quindi vi consiglio di guardare quel video Ecco come potete vedere ci sono altri giocatori Che sono passati per di qua Volevo fare una cosa qui e non posso farla E qui dovete buttarvi in quel buco Qui invece volevo attraversare la roccia Facendo baggare la capretta e non funziona E niente E niente Buttatevi qua sotto Fa niente anche se non saltate Buttatevi Io adesso piano piano velocizzerò il video Per farvi capire quante rune ho ottenuto E qui non ho ammazzato Qui Mowin l'ho ammazzato Però dovrebbe darvi 2 milioni di rune Più la runa maggiore Adesso vi faccio vedere Ecco queste Si sono le prime rune che vi darà E poi E piano piano Dovrebbe darvi anche 2 milioni di rune Quindi colpendo sempre l'aria Eccole qua Cioè io ho ucciso Mawg Senza neanche toccarlo Mi ha dato 2 milioni di rune E il gioco è fatto In descrizione ragazzi Troverete una guida Su come arrivare in questo posto Quindi io spero tanto Di essere stato d'aiuto In questo nuovo glitch E noi ragazzi ci vediamo Ad un prossimo tutorial